Ciao a tutti, mi chiamo Renato Boldrin, ho 68 anni, arrivo da Brescia e ero arrivato al punto che avevo una bocca veramente brutta e parlando con un amico mi ha consigliato, mi ha detto guarda io sono andato dal dottor Palmas, ho telefonato e ho iniziato questa esperienza. Devo dire che nello terzo step che ho appena finito e sono contentissimo, ho visto delle persone veramente dove mi sono sentito a casa mia, mi sono sentito a casa mia perché sono stato trattato bene, sia dalla logistica fino all'ultimo step, diciamo dalla chirurgia alla parte finale. Ho avuto anche l'onore di conoscere il dottor Palmas dove abbiamo fatto un buon colloquio, ho trovato una persona umilissima, una persona molto molto alla mano, una persona anche che avendo raggiunto questi risultati ovviamente si è fermato con noi, ci ha spiegato veramente una persona dove posso dire di consiglio a tantissime persone. Non nego che un po' di dolorini si sentano perché ovviamente intervenendo in bocca ovviamente mi ha tolto tutti gli impianti, mi ha tolto tutti gli impianti, mi ha sistemato, il giorno dopo ho fatto la parte inferiore, visto che il giorno prima ho fatto la parte superiore e non ho avuto né traumi, non ho avuto niente, neanche lividi, veramente un po' di ghiaccio sono riuscito a passare, mi mancano le parole per dire il mio stato d'animo, però ovviamente non ho avuto nessuna difficoltà e oggi ho finito tutto, posso soltanto ringraziare e auguro di vedere alla fine. Io consiglio perché ovviamente sulla mia pelle, sulla mia pelle ho avuto risultati meravigliosi, sono contento diciamo di questa cosa finale. La cosa bella è quella oggi di fare il sorriso e vedere le persone, perché dicono che un sorriso apre le porte, perciò la cosa più bella è quella di avere il sorriso e di mostrare una bocca bella.